Eccoci, bentrovati amici, all'appuntamento con l'informazione di Terribrea sul canale 89. Come al solito, apriamo con una finestrella sulla situazione nazionale e parliamo di Salvini. A parte che il Ministro è impegnato sulla questione delle esondazioni, delle inondazioni che ci sono al nord, soprattutto in Emilia Romagna, c'è la questione dell'open arms, che sarebbe questa nave che tempo addietro, qualche anno fa, quando Salvini era Ministro degli Interni, praticamente proibì di sbarcare motivandolo questa proibizione dal fatto che la nave avrebbe potuto scegliere tanti altri porti sicuri che gli erano stati offerti e invece per forza ha dovuto sbarcare in Sicilia, perché in Sicilia c'è più disponibilità, questo ormai lo sanno tutti, arrivare in Sicilia è un po' una pacchia, perché siccome noi non siamo in grado di gestire bene questo fenomeno, poi dopo dieci giorni scappano, non si trovano più, poi li troviamo quando magari accolterrono qualcuno, scusate se faccio questo discorso, ma purtroppo accade. Detto questo, Salvini aveva detto no, non potete sbarcare, c'è stata tutta una polemica, si è arrivato al processo, i giudici che sono Sabella, Ferrara e Righi, i pubblici ministeri, non i giudici, i pubblici ministeri hanno chiesto, ma è normale, quante volte noi sentiamo dire è stato richiesto dieci anni, poi i giudici assolto perché il fatto non sussiste, ti immagini, sono cose che succedono regolarmente, il pubblico ministero rappresenta l'accusa e giustamente deve fare il suo lavoro e dice noi siamo convinti che abbia commesso un reato sei anni di galera. Il fatto è che però dopo questi sei anni, dopo questa decisione dei giudici, sono arrivati a questi stessi giudici diversi insulti via web, via social, insulti perché questa richiesta addirittura di arresto di Salvini ha a molti sembra esagerato. Ora qui bisogna capire, qui non è un fatto politico, io sono della Lega o non sono della Lega, io non sono assolutamente della Lega, manco me lo sogno, però non c'è dubbio che abbiamo di fronte un ministro, un ministro della nostra Repubblica che ha fatto una scelta che in quel momento era motivata dal fatto che l'esagerazione arrivavano più sbarchi che turisti, insomma era una situazione veramente drammatica e quindi in quel modo si cercava di porre un freno facendo capire che non è che appena vi mettete su una barca vi veniamo a salvare, vi portiamo in Sicilia. Quindi aveva fatto una cosa che per molti italiani, attenzione, per molti italiani era una scelta doverosa. Ora è chiaro, i giudici sono degli uomini e questo è un grande problema, uomini o donne, non possiamo usare le macchine perché sarebbe bello avere un bel computer e dire l'articolo 427 dice questo, tu ci spieghi il fatto e la macchina dice, in base all'articolo sei nocento colpevole, non sarebbe neanche giusto naturalmente. Quindi i giudici sono uomini e donne, hanno una loro idea, pensano in un certo modo e quindi magari in quel momento loro che hanno una visione particolare della politica, del modo di affrontare questo argomento, hanno deciso che era passibile addirittura una condanna. E ci sono state le minacce. Allora qui bisogna anche capire che, come vi ho detto altre volte, c'è un po' di esasperazione perché se andate a vedere tutte le trasmissioni televisive che si fanno nella sera. Una volta in televisione, 1, 2, 3, 4, 5 canali, 1, 2, 3, 4, 5, la sera c'era il film, oggi non è più così. Quasi tutti i programmi sono, tarda sera, mattina risponde, sono tutti programmi di intrattenimento, o meglio di approfondimento e succedono le cose incredibili. Quello che gli occupa la casa, quello che sta nei quartieri della Suburra e questo, tutta una serie di cose. E lui dice, ma com'è possibile continuare a vivere in queste condizioni? E quindi la gente, quelli che ragionano con la pancia, soprattutto, dicono buone fanno, non ne facciamo chassare. E questo è un modo di pensare. Poi ci sono gli altri in modo di pensare. In questo momento governa il centro-destra, c'è la solidarietà del governo nei confronti di Salvini, andremo a vedere come va a finire. Tutti, tu, c'è un momento, per dire che naturalmente ci sarà, vi faccio vedere questo servizio che spiega quali sono poi i risultati. Vediamo.